Eccoci qua, siamo sempre con il dottor Sallusti. Allora, avevamo parlato di raggiungere la felicità, che bello! È possibile, secondo lei? O la serenità? Io non ho detto raggiungere. Ambire. Ho detto perseguire i nostri sogni. E l'importante non è raggiungere, per carità, ogni tanto dobbiamo vincere. Ma il gioco della vita implica anche le sconfitte. E quindi la via per la felicità, o meglio, per la possibile felicità, per l'armonia, è perseguire i nostri sogni. In libertà e in pace con la nostra coscienza. Perseguire i nostri sogni. Perseguire i nostri sogni. Quindi tirarli fuori a questo punto. Allora, i sogni sono di pertinenza dell'emotività. La libertà è di pertinenza della logica. Noi dobbiamo perseguire i nostri sogni e per perseguire i nostri sogni dobbiamo essere integri. Cosa vuol dire questo? Io ho un mantra che ripeto. La frase non è mia, ma di un signore assolutamente molto, ma molto più importante di me, che si chiama Carl Gustav Jung, il quale ha detto questa frase. Tu non devi essere buono. Cerca invece di essere integro. Con questa frase cosa intende dire? La congruità. Non sta dicendo che devi essere cattivo. Devi essere integro. Per essere integro cosa devi sapere? Integrare, armonizzare la tua componente logica. Con quella invece intuitiva. E la tua componente emotiva. Perché noi non siamo integri? Perché poco conosciamo della nostra stessa componente emotiva. Quando dice non devi essere buono, non è un invito a essere cattivi, assolutamente. Non direbbe una cosa così stupida. Ma noi siamo buoni spesso? Perché siamo buoni spesso? Per insegnamento, per delle logiche. Perché siamo? Eh no. Io qui non... Vede... Educati. Io non devo essere carino. Io non devo essere carino. Quindi posso anche dire a volte cose apparentemente spiacevoli. Noi siamo buoni spesso perché siamo codardi. Perché un nostro comportamento... Noi adottiamo un comportamento buono perché abbiamo paura che un comportamento diverso potrebbe causarci delle conseguenze. Ma forse quello è buonismo. Il mondo è pieno di buonismo. No, perché buonismo è questo ed è una cosa deprecabile. La bontà è quando uno teoricamente lo fa veramente col cuore perché ci crede fortemente. Quindi... Io distingo perché i buonisti sono tantissimi, soprattutto in certi contesti è una cosa impressionante ormai. Tu non devi ricercare la bontà, devi ricercare l'integrità perché sarai buono e quindi sarai una persona amorevole solo quando avrai raggiunto l'integrità tra la tua parte logica e la tua parte emotiva. E quindi sarai in armonia con te stesso. Questa tua armonia interna si rifletterà inevitabilmente sugli altri. E sarà percepita dagli altri. A volte noi adottiamo dei comportamenti e che diventano l'attenzione delle abitudini per cui noi ci comportiamo sempre nella stessa maniera e otterremo sempre gli stessi risultati. Perché un comportamento diverso temiamo che possa implicare da parte degli altri un giudizio negativo ad esempio. Oppure se noi ci comportassimo in quella maniera non avremmo stima di noi stessi. O potremmo sentirci in colpa. Oppure potremmo temere di perdere la stima e la considerazione degli altri. Ecco queste quattro componenti sono delle paure. Certo sì sì. Queste paure sono fisiologiche, sono contenute in tutti noi e sono un meccanismo di difesa in realtà. Però possono diventare un meccanismo di offesa. Perché se tu hai troppa paura allora il tuo comportamento sarà finalizzato non al tuo benessere ma a evitare la paura. Quindi paura di avere paura. Per diventare integri dobbiamo, dicevo prima, integrare la nostra parte logica e la nostra parte emotiva. Però per fare questo dobbiamo conoscere la nostra parte emotiva. Dobbiamo conoscere il pensiero della nostra parte emotiva. Cosa ne pensa la parte più profonda di te? Il dono sacro. Il dono sacro va onorato e rispettato. Quindi tu devi onorare e rispettare l'altra parte di te. Per fare questo devi conoscerla. E per conoscerla come si fa? E qui c'è il colpo di scena. E qui c'è il colpo di scena. E qui entriamo nel merito specifico. C'è il colpo di scena perché è possibile dialogare con la nostra parte emotiva. Come? Ovviamente non attraverso la comunicazione logica. Ma attraverso la comunicazione emotiva, emozionale. Il linguaggio dell'inconscio. Il linguaggio dell'inconscio è la comunicazione non verbale. E' il primo atto comunicativo che noi abbiamo attuato nella nostra vita. Si basava esclusivamente su meccanismi emotivi e emozionali. Ed è possibile dialogare con questa nostra parte emotiva. Quello che faccio io, io lo dico sempre, con tutte le persone che vengono da me, la persona più importante qua sei tu, non sono io. Io sono molto modestamente un interprete. Cioè faccio da interprete tra te e la tua parte emotiva. Ti permetto, ti do una tecnica che ti permetta di entrare in rapporto con la tua parte emotiva. Come? E come? Attraverso la comunicazione non verbale. Quindi attraverso i segnali del corpo. Perché è il corpo che a livello istintivo si esprime al meglio. Tu puoi assolutamente dialogare con la tua parte emotiva. Non ci sarà poi più bisogno di me. Perché uno da solo uscirà. Diventerà autonoma. E questo è l'elemento fondamentale. Non avrai più bisogno di chiedere a nessuno. Perché il miglior consigliere, il migliore amico, il miglior compagno di viaggio, noi ce l'abbiamo dentro. Ed è la nostra parte emotiva. La quale conosce noi meglio di quanto noi potremmo essere convinti di conoscerci. e conosce gli altri, tutte le persone che hanno a che fare con noi, molto meglio di quello che potremmo pensare di conoscere, conoscerti attraverso la comunicazione logica. Perché accade questo? Perché la nostra parte emotiva ha la capacità di archiviare dati legati non solo alla comunicazione logica, ma a tutta la comunicazione emotiva e emozionale che è intervenuta nel rapporto con gli altri e anche con noi stessi. Esatto, però questa parte emotiva, ci sono dei soggetti in cui questa è, tra virgolette, malata, diciamo così, avaliata per una serie di fattori. Perché l'emotività non è stata coccolata opportunamente, cresciuta nel modo migliore, fin dalla tenera infanzia, con dei traumi, con delle situazioni in cui si sono creati delle fratture nell'emotività stessa. Tanto è vero che poi abbiamo delle personalità che a livello emotivo sono un po' difficili, diciamo così, senza entrare nel patologico, nel borderline, che dir si voglia, eccetera. Quindi non sempre, non sempre è bene far venire fuori questa parte emotiva se magari questa andrebbe in qualche modo curata e come è possibile anche eventualmente curarla. Non tutti hanno una parte emotiva pura, perché non tutti hanno avuto un'infanzia perfetta, una cura della propria psiche individuale, unica, in modo perfetto e consono a se stessi, perché i genitori poi sono quella della matrice fondamentale da cui tante volte nascono i problemi, nella famiglia, nel nucleo originario. Il genitore è il mestiere più difficile del mondo. Non c'è nessuna scuola per genitori. I genitori fanno del loro meglio. Però i genitori sono stati il primo amore della nostra vita, ma anche il primo antagonista della nostra vita. E costituiscono i parametri di riferimento per tutte le altre persone che incontreremo nella vita. I parametri addirittura? Assolutamente, sì. Lei giustamente dice, ma può essere utile, non sempre può essere utile scoprire il tappo di questo vulcano e far venire fuori tutta questa lava. O non in tutti, insomma. L'obiettivo è decomprimere. Togliere l'attenzione. Togliamo il termine cura, perché non è una cura. Le persone che vengono non sono malate, sono profondamente infelici. È una cosa differente. Quella che applico io non è una cura, ma è un incontro. Con chi? Con il dono sacro. Allora, a volte accade, sa, che la via qual è? Andare a sciogliere i nodi che sovrapponendosi poi nel corso della vita portano a un esito a volte drammatico. E la vita può diventare insopportabile. Perché sa, Elena, io lo dico sempre, le emozioni e i pensieri ci sciolgono nel sangue. E quindi non parliamo solamente di un disagio emotivo e emozionale, ma potremmo anche parlare di malattie. Perché emozioni e pensieri possono andare a turbare anche un equilibrio biochimico. Infatti, io l'ho arrivata alla risposta alla domanda che le stavo per fare adesso. Quanto poi questo va a condizionare, può condizionare la nostra fisiopatologia? In maniera assolutamente prioritaria. Quindi tante patologie che si è riscontrato anche gravissime possono nascere dalla nostra parte inconscia. derivano dall'accumularsi, allora, di tensioni. Anche qui dirò una cosa che può apparentemente sembrare spiacevole. Siccome la nostra parte emotiva vive di tensioni, non di emozioni, di tensioni, il cibo energetico dell'emotività sono le tensioni. Se tu non gliele dai, se le prende, è costretta a prendersene magari dove tu non vorresti caccare se. Quando ci sono persone che hanno difficoltà, perché l'unico elemento, l'unica energia tensionale che vivono in quel momento è l'energia tensionale che è fornita loro dalla malattia. E allora, addirittura, ma chi glielo fa fare all'inconscio di cambiare trattoria? Si nutre di quella tensione e ti blocca, ti fa permanere in quella situazione. Attenzione, la parte logica la vive in maniera disastrosa, ma la parte emotiva in quel momento si nutre di quello. Quindi, di conseguenza, se una persona non dà un nutrimento di un certo tipo rischia di ammalarsi. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ma per curarsi, allora a questo punto bisogna prima agire a livello inconscio? Eliminiamo il termine cura. Mi scusi se... No, 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 sto parlando di curare l'aspetto fisico, perché parlo di malattia, non la malattia... Diciamo per gestire. Per gestire. Per gestire. Perché lei dice non si guarisce. No, perché non è una malattia. La malattia, sì, dopo può diventare malattia fisiologica organica, ma in prima battuta è un disagio. Certo. Però se il disagio provoca una distonia a livello organico, e quindi una patologia, questa patologia si può venire fuori completamente agendo prima sull'inconscio e quindi poi che... nutriendo l'inconscio in modo tale che poi si guarisca anche la parte gravata a livello fisico. È assolutamente da prendere in considerazione questo fatto. Perché a livello normalmente medico questo non viene analizzato? Beh, una volta assolutamente no. Adesso le cose stanno un attimino cambiando. Per cui, ad esempio, anche in patologie molto gravi si tiene sempre conto dell'aspetto psicologico. Sul come ognuno trova la sua strada. Ma il male viene da lontano. Mondo della logica e mondo delle emozioni. Allora, emozioni, tensioni. L'inconscio vuole tensioni. Se tu non gliele dai se le prende. E se le prende dove tu non vorresti che accadesse. E queste tensioni verranno registrate dalla parte logica come tensioni spiacevoli. Allora, facciamo un'opera preventiva. Evitiamo. Preveniamo. E come prevenire? onorando e rispettando il dono. Per onorare e rispettare il dono devi dare alla tua parte emotiva di quello di cui necessita. Che sono le emozioni e le tensioni. allora, a volte può essere necessario incredibilmente penalizzare la parte logica perché siccome l'obiettivo della logica e l'obiettivo dell'inconscio sono diversi, non opposti, ma diversi. allora, tutto quello che penalizza la logica è buono per l'inconscio. Io riporto a volte una frase che è questa così vediamo se riusciamo a spiegarci. L'emozione vissuta in un matrimonio e l'emozione vissuta in un funerale per l'inconscio sono la stessa cosa. Sono forti emozioni. È la parte logica che aggettivizza il funerale spiacevole e il matrimonio piacevole e gioia. Ma per l'inconscio sono tensioni. Certo. Però l'inconscio non è che parteggia per i funerali. Non parteggia nemmeno per i matrimoni. Lui vuole tensioni. Se tu non gliele dai se le prendi quindi comincia a prendere in considerazione il mondo e la vita anche dal punto di vista dell'esigenza dell'altra parte di te che è la parte più importante. Ecco interrompiamoci qua perché a questo punto diventa capire come e ognuno avrà bisogno delle proprie tensioni e proprie emozioni. Allora riflettete su questo pubblicità pochi secondi. a questo punto di vista